Benvenuti al TG7 Basilicata. Aumenta il numero dei contagi da Covid-19 in regione. Oltre ai tre comunicati questa mattina dalla Task Force, se ne registrano altri cinque. Di questi una potenza. Si tratterebbe del presidente di seggio di una sezione elettorale dove sono in corso le operazioni di sanificazione, gli scrutatori sono stati sostituiti. Un caso anche a Ruoti, comunicato dalla sindaca poco fa, un caso a Danzi e altri due casi a Matera. Questi si aggiungono ai tre di questa mattina, lo ricordiamo, di cui uno a Matera, uno a Lauria e una persona residente in Emilia Romagna, ma in isolamento in Basilicata. Con questo caso sono 95 positivi in regione, di cui 7 ricoverati in ospedale con sintomi. Oggi si è tenuta una colla importante tra la direzione aziendale FCA e il Comitato della Sicurezza. L'azienda ha infatti comunicato un altro caso positivo da Covid-19 che risulta assente dalle 13 settembre e a seguito di verifiche, attraverso la catena dei contatti, sono stati individuati altri cinque dipendenti che hanno avuto appunto contatti con la persona positiva.